sì allora atmosfera poetica sì non verrebbe fare questo siccome oggi tra oggi e domani è l'anniversario scelto da libera sì per la marca sempre i morti di marco esatto vai spiego allora siccome io moltissimi anni fa al decimo anniversario libera don ciotti mi chiese di comporre una musica per accompagnare della lettura dei morti lettura dei morti che è stata fatta stamattina a roma l'auditorio ma in tutta italia in tante altre piazze quindi immaginando questa nostra comuna piazza forse il caso per rimanere in sintonia con loro avvenimento che io vi eseguo un frammento di questa musica che io ho composto per la lettura dei morti su richiesta appunto di libera di don ciotti parto allora sì no eccola no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.